Lo stoppino di un prezioso Merino Sestrafine Superior 120S, certificato RWS, acquista il movimento dalla retrazione del nylon con cui è costruito. Con l'aspetto e la mano d'Agnellino, senza avere però le campanelle, nel titolo 1009 viene lavorato alla finezza 3 e presentato sulla lavorazione rovescia che ne sottolinea nella migliore maniera la sua struttura. Adatto anche per essere lavorato con filati sottili sulle macchine a tramatore, creando effetti di movimento di grande grinta. I colori a campioni possono essere tinti con un minimo di 10 kg.